Allora, cercate di avere il rispetto della vostra vita, perché ai tempi di oggi c'è tanta gente che si suicida, questi suicidi si stanno moltiplicando una continuazione, come voi state domandate a Napaziel, al stesso fatto come la cremazione, ci facciamo cremare, facciamo cremare, eccetera, eccetera. Però, quando noi parliamo di suicidio, tenete presente questo, che ogni volta che capita un caso, ne capitano subito degli altri, perché quel caso diventa come un esempio, come un incendio, come un invogliare gli altri a fare le stesse cose. Ecco, allora, quello che vi chiede innanzitutto, statevi attenti, non cadete nella depressione, nello scoraggiamento, perché oggi è facile cadere in questo scoraggiamento. Allora, è bello quando i familiari, quando gli amici ci vedono nello scoraggiamento, che ci diano una mano per sollevarci da queste miserie, perché una parola buona fa sempre bene. E allora, quando tu dici una buona parola, tu salvi questa persona, questa persona si sente meglio, si sente in vita, si sente in forza. Ed è allora che la persona non cadrà in queste ore. Ma se capita che noi lo lasciamo, lo scoraggiamo, diciamo altre parole, parolacce, eccetera, eccetera, amici miei, stiamoci attenti, perché poi può succedere una tragedia. Allora, raccomando a tutti quanti, non fate questi gesti, perché non sono buoni, pensate quale tragedia si scatena in una famiglia. Sono colpi che non si sanano, per tutta la vita resteranno le ferite di questo gesto così brutto nel cuore di parenti e di amici. E non è una cosa bella. Soprattutto, pensate, forse che voi risolvete i vostri casi, pensate come volete, e ai figli chi sta attendo? Ai figli chi ci pensa? Quale tragedia resterà anche per i figli? Soprattutto, pensate, se per caso i genitori sono separati e avviene una tragedia, che cosa avviene? Sto figlio domani, da chi deve andare? Quale mamma lo penserà? Quale donna lo penserà? A mamma non si può sostituire, perché di mamma ce n'è solo una, è chiaro, quindi da mamma non vai a sostituire. E allora vi invito tutti quanti, abbiate fede nel Signore, abbiate coraggio, abbiate fiducia nei vostri mezzi. I guai passeranno sicuramente, il male passerà sicuramente, però quello che resta è sempre la grazia di Dio. Il Signore vi assiste, il Signore vi aiuterà per uscire fuori di tante situazioni. Però un'altra cosa che riguarda lo stesso argomento, vorrei dirle ad altre persone, non vi prendete collera, ma quando voi imprestate soldi ad usura, cioè ma da 200 per 100, il 300% mi devi dare di interessi, se già questa persona è venuta da te perché non ce la fa pagare e ti ha chiesto questo prestito, figurate se poi ti devi dare il 300%, il 200%, questi soldi dove li devi andare a prendere? E siccome voi mettete le scadenze, voi vi arricchirete, ma sta povera gente, cadda fa? Ed è tanta gente che si è tolta la vita o potrebbe incorrere in questo errore di togliersi la vita unicamente perché ci sono degli strozzi.